Buonanotte! Por fin llegó mi momento! Oggi voglio condurre questo duello di eliminazione. Buonanotte! Per prima di tutto, voglio mandare un grande beso a Emilia perché ha avuto un percanzo e non potrebbe essere con noi. Quindi io vorrei assumere la responsabilità di dirigire questo duello che sicuramente sarà molto, però molto regnito.